5 Stelle al contrattacco pretendono le scuse dopo l'uscita del dossier Frontex. Delle ONG il Movimento 5 Stelle è stato attaccato in maniera indegna e oggi si scopre che c'è un problema di sicurezza nazionale su cui bisogna indagare e dare sostegno ai magistrati. Ma mentre si indaga e si fa chiarezza, tutti quelli che ci hanno attaccato ci chiedano scusa. A due interviste a Repubblica e la stampa di Maio Affronte, i temi di politica estera, il no alle sanzioni alla Russia, il referendum sull'euro, la modifica dell'accordo di Dublino e sulla Libia, un errore a fidarci a Sarraj, Cuba può mediare.